La Regione Abruzzo Direzione Agricoltura, Servizio Produzione Agricola e Mercato, Ufficio Valorizzazione delle Produzioni Vegetali, rende noto che per la campagna vitivinicola in corso viene consentito un titolo alcolometrico volumico minimo inferiore di mezzo grado a quelli stabiliti per tutte le tipologie dei disciplinari di produzione dei vini a DOP, quindi tutte le DOC e la DOC G, Colline Terramane e IGP, quindi tutte le IGT ricadenti nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo, in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale. Il provvedimento è immediatamente operativo, sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, ne saranno informati i competenti uffici del Ministero e l'Istituto per il controllo qualità e repressione frodi. Precedentemente era stato autorizzato anche l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, entro il limite massimo dell'1% per le uve fresche, per il mosso di uve parzialmente fermentato e per il vino nuovo ancora in fermentazione, relativamente alla vendemmia in corso per tutte le varietà di vite autorizzate. Valido per vini senza DOP e IGP, vini varietali senza DOP e IGP, vini DOP e vini IGP, vini spumanti.